IFA di Berlino, siamo qui in anteprima con BlackBerry per vedere il nuovo Key2 LE, praticamente un nuovo modello che si va a affiancare al Key2 nella gamma BlackBerry. Partiamo subito col dire che è un modello che vuole essere un po' più di massa, quindi avrà un costo inferiore, risparmia su qualcosa dal punto di vista delle caratteristiche, ma vuole appunto portare la tastiera BlackBerry a un più ampio numero di persone. Partiamo col dire che rispetto al Key2 che ho qua, il corpo non è in metallo ma in policarbonato, cambia qualcosa sulla finitura, anche qui sul frontale non è un corpo univado in metallo, ma sono pezzi di policarbonato assemblati, quindi in realtà è anche più leggero, ma dovrebbe comunque avere una buona durabilità dal punto di vista della solidità, dà un'impressione un po' di solidità, un leggermente inferiore rispetto al Key2, ma è anche un pochino più leggero, un pochino più leggero anche perché la batteria risparmia, ha tolto qualche amperaggio, qualche milliampere di amperaggio, è 3000 milliampere contro 3400 del Key2. Però dovrebbe garantire più di una giornata di autonomia contro il Key2, che dovrebbe garantirne due, dovremmo arrivare a 22 ore di utilizzo continuo al telefono, quindi praticamente quasi una giornata e mezzo. Rimangono tutti i tasti che avevamo sul Key2, il volume, l'accensione che può essere utilizzata con un clic rapido per fare anche le foto, il convenience key che fa partire delle particolari modalità, ma può essere utilizzato anche per far partire direttamente Google Lens o l'assistente vocale Google Assistant. La tastiera è meno smart di quella del Key2, infatti non ha le gesture e non è touch, però ha il sensore di impronte digitali qua annegato all'interno della barra spaziatrice e il tasto per chiamare in modo rapido le applicazioni, il tasto scorciatoio, il speed key. Abbiamo il jack per le cuffie, abbiamo l'USB-C per la ricarica, ricarica Quick Charge 3, quindi possiamo arrivare quasi a metà dell'autonomia con solo mezz'ora di ricarica. Abbiamo dentro Qualcomm Snapdragon 6, 3, 6 e 4 giga di RAM contro il 6, 60 e 6 giga di RAM del Key2. 32 e 64 giga saranno le versioni contro le 64 giga di partenza del Key2. Questo Key2LE gioca anche molto sui colori, vuole essere un po' più sbarazzino, vuole aprire un po' di più alla massa e quindi arriverà innanzitutto con questo grigio petrolio, un grigio verde petrolio con la finitura posteriore semilucida, con anche la tastiera, non so se l'ho riuscita a vedere, anche la tastiera della stessa librea del corpo. Poi ci sarà la versione bicolore champagne con blu e finiture champagne sul lato e la più bella, secondo me, è questa con finitura blu e corpo in policarbonato rosso metallizzato. Dietro l'ho girato, avete visto, si è la doppia fotocamera, abbiamo un sensore da 13 e da 5 megapixel per fare comunque gli effetti di profondità. Abbiamo poi la possibilità a livello di software di clonare le app e quindi avere una versione per magari quella personale e l'altra versione per l'account professionale. Ad esempio su Instagram io utilizzo molto sia quello personale sia quello business e a volte faccio qualche casino come qualcuno avrà anche visto. Abbiamo il locker, ossia la possibilità di mettere foto e contenuti in un'area riservata ma anche le app nell'area riservata, quindi ad esempio le app della banca posso metterla lì con un ulteriore livello di sicurezza. Livelli di sicurezza di base molto elevati grazie a D-Tec che è un layer sviluppato da BlackBerry in collaborazione con BlackBerry Limited per aumentare la sicurezza del telefono che ci dà tutti quelli che possono essere i problemi del nostro telefono. Ci sarà una gestione proattiva della batteria che imparerà i nostri pattern di utilizzo e ci saprà dire se stiamo utilizzando il telefono più o meno del solito e consigliarci ad esempio anche andando a leggere il nostro calendario se abbiamo una fitta serie di meeting e anche dei meeting alla sera magari tra un meeting e l'altro di caricare il telefono in modo da poter arrivare fino al meeting della sera senza problemi appunto imparando un po' quali app utilizziamo, quanto le facciamo consumare e se riusciamo ad arrivare a sera o no. Prezzo ve lo dico 3,99 per la versione 32 GB e 4,49 per la versione a 64 GB. Come detto arriverà prima questa versione verde petrolio poi la champagne e poi prima di Natale la versione rossa. Il lancio adesso qui a IFA in questi giorni poi si preparerà tutto. il lancio sul mercato a fine settembre cominceranno ad arrivare anche in Italia ai primi di ottobre e poi per la versione rossa bisognerà aspettare però prima di Natale arriva quindi se lo volete regalare o se volete farvelo regalare dovreste riuscire ad avercelo per Natale. Per il momento è tutto qui dal lancio del nuovo BlackBerry Key2LE e continuate a guardarci per scoprire tutte le altre novità qui da IFA 2018. Grazie a tutti.